Scatta domani la sessione invernale di calcio mercato, quasi un mese pieno per porre riparo a errori e a rinforzare gli organici, poi lo stop la sera del 31 gennaio. Per il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e i direttori Luca Leone e Peppino Pavone è anche il momento del confronto in vista delle operazioni da pianificare, in particolare quelle in uscita. La lista è molto lunga e a questa sono da tempo iscritti Mirko Pigliacelli, destinato alla Provercelli, e soprattutto Simone Andrea Gans. In vacanza a Cortina, in questi giorni, il centravanti acquistato dalla Juventus la scorsa estate ha mandato segnali più o meno espliciti circa la conclusione della sua sfortunata parentesi bianca-azzurra. Non so dove giocherò, ha detto ai microfoni di Sky. Ad Ascoli, perché no? In effetti proprio la squadra di Cerse Cosmi è la principale indiziata, anche perché ha già formulato una offerta concreta al Pescara e al giocatore. Resta alla finestra il Foggia. L'Ascoli tuttavia, per risalire una classifica allo stato deficitaria, ha puntato altri obiettivi bianca-azzurri. Uno è il terzino Antonio Mazzotta, che benché molto impiegato da Zeman potrebbe andare via, poiché è in scadenza di contratto. Sul difensore laterale negli ultimi giorni si è però fiondato forte anche il Brescia di Marino, che anzi ora sembra essere in vantaggio e prossimo alla chiusura dell'affare. Un altro indiziato per il picchio è il centrocampista Mamadou Koulibaly, il cui procuratore Donato di Campi ha un buon rapporto col club bianconero, dove ha tra i suoi assistiti anche Andrea Favilli. Per l'operazione servirà comunque il placet dell'Udinese, titolare del cartellino del centrocampista senegalese. Proprio Koulibaly e Mazzotta sono i nomi di maggior impatto, perché gli altri calciatori destinati a uscire sono stati impiegati molto poco, addirittura per nulla se si fa riferimento al centrocampista Ransford Selasi e all'esterno Emmanuel Lattelat, che è destinato a tornare all'Atalanta, che poi ne deciderà le sorti future. Per non parlare dei fuorilista come Andrea Rossi, Luca Forte e Rvoie Milicevic, qualche minuto lo ha collezionato Guglielmo Stendardo, che non ha mercato, ma che ha sempre in bilico un eventuale futuro da dirigente e una rescissione del contratto non è da escludere. Particolare la situazione di Francesco Zampano potrebbe partire, soprattutto se per il terzino genovese si spalancassero le porte di una Serie A, con un'offerta convincente per il ragazzo e per il pescara. Il Delfino perderebbe un pezzo pregiato, ma che quest'anno ha reso al di sotto delle aspettative, forse perché meditava l'addio già dalla scorsa estate. Una lista dunque di oltre dieci potenziali partenti per riportare la rosa ad un numero di calciatori più sostenibile per Zeman. Non dovrebbero esserci sorprese con Balzania, che resterà in riva all'Adriatico dopo l'ottimo finale di girone d'andata, probabile anche l'addio di Cappelluzzo, dando così spazio a Cocco nel ruolo di vice Pettinari.